a tutti da giussi bentornati o benvenuti sul canale oggi andiamo ad aprire le uova perché sono due di pasqua di elettro a lamborghini perché due prese su amazon uno costa ovviamente da rivenditore a rivenditore poi i prezzi cambiano da giorno a giorno i prezzi variano ok uno costava 24 euro e 90 due fondamentalmente 33 euro raga ho appena controllato scadono pure nel 2025 c'è una figata questa solo che aprendoli allora il rivenditore che tra le altre cose ha consegnato con tnt mi ha omaggiato ogni ogni uovo era in una scatola diversa di questi portachiavi quindi uno per ogni uovo aperi snack lo snack che ti stuzzica facciamo collezione di portachiavi e sono due e all'interno c'erano degli snack che adesso vi mostro perché voi siete curiosi vero c'erano ben quattro snack c'è sicuro che sono quattro in 3d questi sono al gusto di formaggio ok scadenza 2024 che siamo a posto quindi quattro snack al formaggio non è finita cioè quest'anno proprio con le uova altri snack sempre in 3d questi li gradisco meno e a forma di cono sono quattro ok non abbiamo finito e poi vabbè questi non li gradisco proprio perché sono al peperoncino e sono sempre quattro c'erano due per ogni uovo credo si sia capito ok io posso invitarvi a una festa e ok allora le uova di elettra lamborghini io spero che non ci sia la stessa sorpresa io l'anno scorso non l'ho acquistato però l'ho visto spacchettare e stessa surprise non c'erano allora è prodotto da walcore walcore ed è al cioccolato finissimo al latte con fantastica sorpresa allora le ho viste in negozio a supermercato e all'inno e loro e quelli avevano questo un peluche con la forma di cuore così con questa corona boh qua non c'è però ci hanno dato gli snack allora l'uovo pesa allora 280 grammi ok sono contenta che insomma non è tanto e devo trovare una ricetta allora apriamo questo c'è un pezzo di carta ce n'è un altro o o o o o raga adesso ci vorrà un quarto d'ora ci vediamo fra un quarto d'ora io taglio anche la carta e vi basta ho tagliato anche la carta perché è una roba allora tanto questi finiranno in un contenitore no vabbè ancora non si apre no vabbè non va bene un laccetto no non ci posso credere ecco infatti si è staccata anche la carta perché devi fare attenzione a non togliere la carta allora sperando che l'uovo sia integro possiamo le forbici integro la carta ovviamente no perché l'ho appena tagliata io allora stava per cadere l'altro uovo e poi non era più integro ok tnt ha portato l'uovo esattamente come vabbè c'è qua un picco una piccola crepa allora c'è il solito bicchierino ovviamente noi ce ne siamo fatte una ragione lo poggiamo su questa carta straffata dalla sottoscritta e io andrei a fare il colpo di carato vediamo se mi riesce di aprirlo così il colpo di carato vado eh uno due e tre e tre no vabbè oddio cos'è no se non leggo io non capisco è un mini flipper no vabbè ma che ci faccio io elettro ok c'è un mini flipper scusate il flipper c'è un mini flipper cioè ma è un gioco da bambine che dobbiamo giocare cioè ci sono delle palline dentro cioè cioè fondamentalmente appunto ci sono queste palline che dovrebbero andare e poi io cioè io non trovo non mi è piaciuta questa sorpresa ovviamente c'è disegnata lei elettra io l'anno scorso ho visto sorprese più carine tipo c'era il cordoncino per il cellulare boh ma questo non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi ma neanche adatto a chi a chi è adulto dico e quindi è una sorpresa per bimbi questa io non l'aprerei neanche ragazzi cioè ci sono queste tre palline piccole piccole dorate argentate e dovremmo giocare a flipper con questo non credo ok elettra questo surprise non mi è piaciuta pensavo qualcosa di più indicato cioè nel senso di anche per adulti non per adulti ma per ragazze cioè le ragazze non ci giocano con questo è un gioco da bimbe vabbè che delusione ok sperando nell'altro e sperando che non ci sia anche lì un flipper no vabbè non ci posso credere ma che surprise è allora questo è identico quindi il cioccolato è buono cioccolato finissimo al latte con fantastica sorpresa oddio se è fantastica come quella anche no anche qua sono 280 grammi di ciccia scusate facciamo volare questi cartoni no vabbè quella surprise non mi è piaciuta per nulla e vediamo quest'altra surprise tagliamo pure la carta tanto a me la carta non serve questo lo mettiamo in un contenitore e poi vi dirò che ricetta ho scelto per fare una torta un dolce un qualcosa allora vediamo se è integro l'uovo no ma che delusione l'etra io l'anno scorso non l'ho preso quest'uovo quest'anno non sono convinta ovviamente la carta l'ho rotta io me ne rendo perfettamente conto ok ecco qua l'uovo l'uovo è integro grazie TNT sei una garanzia il bicchierino c'è sempre volete che manchi il bicchierino no allora no se c'è un altro mini filiper io urlo vado uno due non so che cosa sia c'è questo con che cos'è c'è un portachiavi con patch che significa con patch scusate il patch quale sarebbe ok è di elettro e Lamborghini allora ok il portachiavi sarebbe questo fondamentalmente quello che è attaccato nelle varie uova di Pasqua al supermercato è questo cuore con questa sopra con la corona quindi c'è questo bellissimo portachiavi è tipo quello che si ha buh madonna allora a me questa surprise anche no anche perché è in plastica questo è plastica no vabbè allora quindi mini flipper che non abbiamo neanche aperto e questo un portachiavi allora a parte la cioccolata boh a me le sorprese anche no cioè boh non mi sono piaciute però io continuo a mangiare cioccolata e vi lascio qua a guardare queste queste sorprese fatemi sapere nei commenti che ne pensate ok abbiamo finito ciao ciao a presto